Ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video di V Preview Oggi voglio presentarvi una bellissima statua in resina dedicata a Gemmelle Holograms il famosissimo cartone animato anni 80 firmata da Diamond Select Toys che ringrazio ancora, guardiamola subito nel dettaglio Partiamo subito dalla scatola che è coloratissima, veramente bella frontalmente abbiamo il logo di Gemmelle, la foto della statua e più in basso il logo di Diamond Select ve la faccio vedere un po' a 360 gradi vediamo che sono 3000 pezzi numerati all'interno troviamo il certificato cartaceo con il numero della statua la mia è la 343 su 3000 e la statua di Gemmelle la base è molto colorata sotto alla numerazione è bella pesante vista dal vivo è una statua in resina spettacolare da veramente giustizia al cartone animato degli anni 80 oltre a uno sculpt del viso veramente perfetto Diamond Select ci regala una colorazione assolutamente impeccabile anche nelle parti più difficili guardate ad esempio lo smalto nelle unghie ho lo stesso trucco nessuna sbavatura negli occhi, nelle labbra le pieghe nel vestito danno il giusto senso di movimento al Gemmelle che si presta a cantare rendendola quindi una statua dinamica e poco statica anche la base è ben realizzata tutta oro con le varie stelline davanti e dietro il Gemmelle e tastiere con l'organo la statua interamente è alta poco meno di 30 cm la base è circa 18 cm e ha un peso di 1,632 kg considerate che sono solo 3000 pezzi e uno è già mio per cui vi invito ad andare correndo nel sito Diamond Select Toys per vedere non solo Gemmelle ma tantissime altre statue veramente fighe spero che il video vi sia piaciuto se vi è piaciuto mi invito a lasciare un like, un commento e a seguirmi nel mio canale ciao! 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 ciao!